La classe delle funzioni a scalino la chiamiamo S, quindi S è l'insieme delle funzioni in F da R in R, tra i che F è a scalino. Allora l'integrale è un funzionale, cioè noi prendiamo una funzione F e associamo a questa funzione F un numero che sta in R. Questo qua si chiama l'integrale di F si dice che è un funzionale, funzionale perché è una funzione che prende una funzione e associa un numero. Allora per non impicciarsi, funzione, funzione, numero no? Si chiama funzionale, quindi funzionale è una funzione, un'applicazione che parte della funzione è assoluta. Per esempio un altro funzionale è il calcolo della derivata in un punto, se la funzione ha la derivata nel punto 0, allora prendi la funzione seno, calcola la derivata di seno e coseno, 0 vale 1, hai preso una funzione e hai tirato fuori un valore, quello è un funzione. Invece quando facciamo per esempio la derivata di una funzione, quindi prendiamo seno e tiriamo qui un'altra funzione che è la funzione coseno, allora si chiamano operatore, perché prende una funzione e restituisce una funzione, quindi funzione prende un valore vettoriale numerico e restituisce un valore vettoriale numerico, funzionale prende una funzione e restituisce un numero, operatore prende una funzione e restituisce una funzione, quindi l'integrale per come l'abbiamo definito noi è un funzionale, perché l'integrale è tutto è, è definito sulla classe delle funzioni a scambio, che preverà l'integrale è un funzionale lineare e positivo, iniziamo da positivo che è molto semplice, positivo si dice anche monotono, positivo che vuol dire? Positivo significa che se fi è una funzione a scalino maggiore è uguale di zero vuol dire che l'integrale di fi viene pure così, questo è banale perché noi abbiamo fi di fi sarà del tipo somma di lambda con i per la funzione caratteristica di a con i e di con i per i che va da 1 ad h, dove i lambda con i sono positivi per ogni i compreso tra 1 ed h e b con i sono sempre più grandi di a con i per ogni i compreso tra 1 ed h, allora se andiamo a fare chi è l'integrale, chi è l'integrale tra meno infinito e più infinito di fi x e la somma è lì che va da 1 a più infinito di lambda con i per b con i meno a con i e questo è chiaramente, questi sono tutti i numeri stentamenti positivi, questi sono tutti i numeri maggiore o uguale di zero, il prodotto è maggiore o uguale di zero, la somma di quantità non negative è un numero non negativo lineare, lineare che significa? Significa che se io vado a fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di alfa fi più beta si in dx questo è uguale ad alfa volta l'integrale di fi più beta volta l'integrale di si per ogni alfa beta appartenente a r e fi e di si quindi questo è quello che vuol dire lineare, questo è quello che vuol dire lineare, questo è quello che vuol dire positivo allora come si va a dimostrare? Allora vi ricordo che alfa fi più beta, allora scrivo prima fi, fi era somma di lambda i per la funzione di la funzione caratteristica di a con i e di con i e i che va da 1 fino ad h, si era la somma, un'altra somma devo usare altre lettere no? perché il j che andava da 1 a k di mu con j è la funzione caratteristica di c con j, c con j. Quando vado a fare la combinazione lineare noi abbiamo detto, anche se non l'abbiamo dimostrato nei dettagli quello lo potete fare per esercizio che questa era per esempio la somma per i che va da 1 fino ad h che è la somma per j che va da 1 fino a k di alfa lambda i più mu beta più beta mu con j per la funzione caratteristica di a con i di con i intersecato c con j di con j. ok, allora andiamo quindi a fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di alfa di di x più mu più beta c di x questo è la somma per i che va da 1 fino ad h e la somma per j che va da 1 fino a k di alfa lambda i più mu beta j sono leggermente dislessi per la che cosa? adesso devo fare per la lunghezza di a con i con i con i intersecato e tutto questo il placebo perché questo numero non posso scrivere direttamente quanto fa perché dipende da come stanno messi i due inter in che vado quindi cosa si fa? si fa la somma dei prodotti, valori della funzione per la lunghezza di 우리 vado però queste due somme qua, questi valori qua io li posso separare in due somme diverse cioè posso fare la somma per i che va da 1 fino ad a e la somma per j che va da 1 fino a k poi qua ci metto alfa che è una costante e passa fuori da tutto poi ci metto lambda con i che lo posso mettere qua per la lunghezza di a con i b con i intersecato c con d di con j più beta per la somma per i che va da 1 fino ad h per la somma per j che va da 1 fino a k qua ci devo mettere mu con j, questo non lo posso portare fuori, questo sì perché lambda i non dipende da j questo no perché vu con j dipende da j per la lunghezza di a con i b con i intersecato c con j b con j ok uguale allora adesso concentratemi un attimo su questa somma qua cosa rappresenta questa somma qua? allora quello che va, allora qui c'è a con i b con i e poi qua ci sta per esempio c con 1 c con 2 poi c con 2 c con 3 poi c con 3 poi c con 3 c con 4 poi c con 4 c con 5 e qua ci volevano dei gessetti colorati però diciamo faccio grandi, questi sono a con i b con i, gli altri sono gli intervallini c con i c con j di con j ah scusate c con j di con j li ho fatti giusto apposti però diciamo a cui stiamo supponendo supponiamo 가� you che a con i b con i siano a 2, a 2 disgiunti eppure i C con G e i B con G siano a 2 disgiunti inoltre B con I uguale a con I più 1 per ogni C con G D con G uguale a C con G più 1 per ogni C cioè questo si può supporre certo che si può supporre basta allora dice gli intervallini li voglio a 2 a 2 disgiunti perché io come dimostro che l'integrale lineare non mi interessa posso dimostrarlo per qualunque rappresentazione della phi e della phi basta che uso una rappresentazione perché perché se vale per una rappresentazione so che cambiando la rappresentazione l'integrale non cambia quindi poi uno dice perché posso supporre quindi che sia 2 disgiunti lo posso supporre però uno dice perché posso supporre che gli intervallini sono messi in maniera tale che dove finisce l'uno inizia l'altro questo vale sia per gli intervalli tipo AB che per gli intervalli tipo C beh se ci manca un intervallino per esempio supponete di andare da 0 a 2 e poi di partire da 4 a 5 da 2 a 4 ci mettete il valore 0 cioè si può sempre fare quindi nella scrittura di partenza questa qua nella scrittura di partenza questa qua e questa qua supponiamo allora che succede che quando andate a prendere un intervallino per esempio A con I B con I che succede quando lo intersecate con i vari intervallini in C congeli quando fate l'unione di tutte le intersezioni queste intersezioni sono a 2 a 2 disgiunte ma quando sono a 2 a 2 disgiunte fate l'unione vi viene l'intervallino A con I B con I cioè questa somma qui chi è? è esattamente B con I meno A con I cioè se io prendo l'intervallino con I B con I e lo spezzo nelle varie intersezioni con gli intervallini tipo Cd e mi vengono tanti pezzetti però poi li rimetto insieme alla fine alla lunghezza quanto deve fare? alla lunghezza dell'intervallo di partenza quindi qua mi viene alfa per la somma per I che va da 1 fino ad H di lambda con I per B con I meno A con I più da questa parte vorrei fare la stessa cosa ma non posso farlo perché la somma è su G però quando le somme sono messe in questo modo cioè voi fate una somma per un indice che varia da che ne so da 1 a 10 l'indice interno che varia da 1 a 100 le somme si possono scambiare cioè questi estremi di variazione dell'indice sono fissi quindi voi state facendo la somma su gli indici I e G che descrivono un rettangolo il rettangolo o lo percorrete per righe o lo percorrete per colonne è la stessa cosa quindi qua posso scrivere più beta per la somma per G che va da 1 a K poi ci posso mettere mu con G per la somma per I che va da 1 ad H della lunghezza di stavolta devo mettere C con G di con G intersecato A con I di con I ok? perché stavolta mu con G l'ho potuto portare fuori perché una volta che ho scambiato le somme la somma interna dipende solo da I questo non dipende da I la somma interna è fatta su I questo non dipende da I io la posso soltare è una costante allora ragionando come in precedenza questa somma qui chi è? allora il primo era alfa che somma per I che va da 1 ad H di lambda con I di con I meno a con I l'altro è beta somma del G che va da 1 a K mu con G chi è questo? vediamo se avete cammino qualche cosa di genere di genere di genere perché esattamente qualcosa è perché stavolta io cosa sto facendo? sto intersecando C con G e D con J con i vari intervalli a con I B con I quindi sono messo uno a pezzo all'altro me lo spezzo in tanti pezzettini quando faccio la somma delle lunghezze pezzettini trovo la lunghezza dell'intervallo C G che è D G ma se ci andate a fare se andate a riflettere un attimo questo non è altro che l'integrale di fi quindi qua mi viene alfa integrale da meno infinito più infinito per l'integrale di fi di x più beta per l'integrale da meno infinito e più infinito di fi di x di x questa proprietà si diciamo enuncia dicendo che l'integrale è un funzionale lineare cioè l'integrale di una combinazione rispetta le combinazioni lineare una combinazione lineare lo vedremo meglio nel corso di analisi 2 è una scrittura del tipo alfa fi più beta quindi e succede che l'integrale di alfa fi più beta psi è uguale all'alfa volte integrale di fi più beta volte integrale di psi ovviamente la stessa cosa è valida se invece di avere una combinazione lineare di due funzioni abbiamo una combinazione lineare di due funzioni cioè però questo cominciate a memorizzare questa diciamo a concettualizzare perché poi si dice che il funzionale è monotono che significa monotono monotono è una proprietà che una volta che abbiamo la linearità la monotonia e la positività sono la stessa cosa monotonia monotonia significa che se fi e psi sono due fungine a scalina e se fi è più grande di psi allora l'integrale tra meno infinito e più infinito di fi di x di dx è maggiore o uguale dell'integrale tra meno infinito e più infinito di psi di x di x beh questo è banale perché fi io lo posso scrivere come fi meno psi più psi e vi ricordo che questa funzione qui per i modi si è più grande di zero quindi l'integrale tra meno infinito e più infinito di fi di x di x è uguale l'integrale tra meno infinito e più infinito di fi di x meno psi di x di x più l'integrale tra meno infinito e più infinito di fi di x di x questo per la positività l'integrale di una funzione positiva non negativa è non negativo quindi tutto ciò è maggiore o uguale l'integrale tra meno infinito e più infinito quindi una volta che sappiamo che l'integrale è positivo e che è lineare deve essere anche monotono, cioè se la funzione è più grande l'integrale è più grande questa è la parola la funzione ha valori più grandi, l'integrale sarà più grande queste sono le proprietà di base dell'integrale ok? adesso andiamo a vedere quali sono le funzioni integrabili del secondo Riemann ricapitolo prima di andare a fare l'ultimo passo che è quello fondamentale chi ha una funzione caratteristica? una funzione caratteristica dell'insieme vale 1 sull'insieme, 0 fuori dell'insieme chi ha una funzione caratteristica dell'intervallo semiaperto al testa? una funzione che vale 1 sull'intervallo dell'intervallo che è aperto a testa è 0 fuori chi ha una funzione a scalino? una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a testa cioè una scrittura del tipo somma di lambda g e la funzione caratteristica di a cong e b cong gli intervalli devono essere a due a due disgiunti? non necessariamente però esiste una scrittura in cui gli intervalli sono a due disgiunti la scrittura nella quale gli intervalli sono a due disgiunti e i valori sono tutti diversi è unica se no non è unica come si fanno gli integrali delle funzioni a scalino? no, se la funzione è somma di lambda g per la funzione caratteristica di a cong e b cong l'integrale sarà dato da somma di lambda g per la lunghezza dell'intervallo b cong e cong cioè per b cong meno cong questa scrittura dipende dalla rappresentazione della... questo valore dipende dalla scrittura della fi cioè dalla rappresentazione della fi cosa? no non lo abbiamo dimostrato nei dettagli ma abbiamo fatto vari esempi volendo mostrare nei dettagli se voi scrivete la stessa funzione in modo diverso a scalino come combinazione lineare di funzioni caratteristica e intervalli si è fatta a destra fare l'integrale e l'integrale è l'intervalli quali sono le proprietà di queste integrali? le proprietà delle integrali di base, poi ce ne sono altre ma cominciamo a vedere queste sono che l'integrale è lineare cioè rispetto alle combinazioni lineari vediamolo su 2 poi per induzione è chiaro che se vale per 2 vale per un numero di funzioni di scalino maggiore o uguale di 2 cioè se io ho due funzioni a scalino e ho due valori reali alfa e beta allora l'integrale di alfa fi più beta psi è uguale all'alfa volta l'integrale di fi il beta volta l'integrale di pi psi dove alfa e beta sono numeri reali e psi sono logistrati allora innanzitutto alfa fi più beta psi è una funzione a scalino una volta che abbiamo questa scrittura partendo da due scritture di fi e psi che fossero in maniera tale che gli intervalli erano solo disciuti sia per la fi che per la psi e che fossero giusti apposti una pressa all'altra allora dalla scrittura di alfa fi più beta psi andiamo a fare i conti e vediamo che effettivamente l'integrale fa quello che deve fare cioè viene alfa volta l'integrale di fi più beta volta l'integrale di psi poi l'integrale è positivo che significa che se ho una funzione a valori non negativi l'integrale viene non negativo poi l'integrale è monotono che significa che se ho una funzione più grande l'integrale viene più grande se fi è maggiore o uguale di psi l'integrale di fi viene maggiore o uguale di l'integrale di psi queste sono le proprietà di base dell'integrale è lineare, è positivo, è monotono positività e monotonia data la linealità è la seguita sono la stessa cosa sono equivalenti questo è ragionato una volta che sapete l'integrale lineare se è positivo e monotono ma se è positivo perché il fi è maggiore o uguale di zero quindi l'integrale di fi deve essere maggiore o uguale di l'integrale di zero ok detto questo siamo pronti per il salto finale dove è fatto il salto finale? allora allora il discorso è questo qui definizione cominciamo a prendere sia f da r in r una funzione limitata e nulla fuori di un intervallo limitata significa esiste m maggiore di zero tale che f di x è minore o uguale di m per ogni x appartenente a x l'intervallo potete prenderlo chiuso, aperto, semiaperto come vuole fare perché una volta che è nulla fuori di un intervallo se l'intervallo non vi piace se è chiuso, aperto, semiaperto lo prendete più grande e ci mettete gli estremi che volete voi quindi tale che f di x uguale a zero per ogni x non appartenente noi per coerenza abbiamo preso sempre intervalli semiaperti nel discorso sull'integra ripeto se qua invece di prendere lo semiaperto lo prendeste aperto o chiuso la seconda parte non cambierebbe, basterebbe cambiare a e b quindi sto imponendo queste due condizioni, a cosa mi servono queste due condizioni? mi servono andare a scrivere queste due classi s- e l'insieme delle phi appartenenti ad s tali che phi è minore o uguale di f diciamo phi di x è minore o uguale di f di x per ogni x appartenente a x qua si chiama classe non è vuota ed è la classe delle funzioni a scalino minoranti quindi vediamo un po' se avete capito chi sarà s più? saranno? che tipo di funzione? a scalino tali che phi di x maggiore o uguale a f di x però è minore o uguale anche questa non è vuota ed è la classe delle funzioni a scalino maggioranti di phi di y allora vediamo un po' faccio una figura questa è la mia f grafico y uguale a f di x allora com'è fatta una funzione a scalino minorante? anche qui ci vorremmo però i ah stavolta guardate non ho fatto parti tratteggiate perché se no non si capisce più niente questo è il grafico di una funzione a scalino che sta di sotto vedete questo è il grafico della f la funzione a scalino ha il grafico che sta sotto e poi dobbiamo andare a fare quindi questa qui è phi con 1 phi con 1 minore o uguale a f poi andiamo a prendere un'altra funzione a scalino allora vedete per grafico per grafico la f aveva per grafico questo allora vedete qui ripeto ci vorrebbe quella di sotto la la faccio un po' la faccio un po' quella di sotto la lascio ok allora vedete quella ripeto i pezzi verticali non appartengono al grafico però perché se no non si capisce niente questa è quella di sopra questa è quella di sopra e la f sta in mezzo ok? adesso cosa andremo a fare? andremo a fare a meno cioè l'insieme degli integrati delle funzioni quali? a meno saranno quelli che stanno in a meno a meno a meno a meno a meno è la classe degli integrati delle funzioni a scalino o a poi ci sarà a più a meno l'insieme degli integrati delle fi tali che fi appartiene a s più qua c'è sempre il strato problema della variabile muta se vi da fastidio che fi stia sia in s meno che in s più questa la chiamate fi e questa la chiamate fi cioè non è che è una variabile muta queste sono integrati della funzione a scalino maggioranza se una fi sta qua tranne caso particolarissimo fi non sta qua allora varie osservazioni varie osservazioni queste qua sono due classi di funzioni quindi sono due insieme di funzioni questi qua invece sono due insiemi di che sono questi? tramite funzionale questi sono numeri questa è una classe numerica questa sta in R e non è vuota perchè non è vuota? e anche questa non è vuota e sta in R pure bene perchè ci sono sia funzioni a scalino maggioranti che funzioni a scalino miglioranti come faccio a sapere che ci sono queste funzioni? allora supponete che questo sia A e questo sia B cosa so? so so f è compresa da fi 1 e fi 1 però so che fuori di AB la mia funzione f vale 0 poi so che in modulo in valore assoluto la mia funzione è meno uguale a M quindi se tra A e P ci metto meno M sicuramente questa è una funzione minorante e questa è una funzione maggiorale viene da queste due e quindi quelle due condizioni a cosa servono? servono a far si che ci sia sempre almeno una funzione qua dentro e sempre almeno una funzione qua dentro se una di quelle due condizioni non è vera quelle due classi sono U cioè una almeno di quelle due classi chiaro per esempio se la funzione non è nulla fuori di un intervallo pensate alla funzione U su X e come faccio a maggiorarla con la funzione a scalino? la funzione a scalino prima o poi finisce quindi non posso maggiorarla su tutto M quindi non posso maggiorarla su tutto M la funzione a scalino è una combinazione lineale cioè una somma di un numero finito di multipli di funzioni caratteristiche integrative però e quindi questa ci vuole ma d'altro canto pure questa ci vuole pensate sempre alla funzione 1 su X vicino a 0 come fate a maggiorarla con una funzione a scalino? la funzione a scalino ha dei valori finiti quindi qui la funzione vicino a 0 va infinito non si può maggiorare quindi una condizione essenziale affinché quelle due condizioni sono essenziali affinché queste due classi di funzioni siano a non vuole quindi queste qua ci vogliono per forza allora se queste due condizioni sono soddisfatte perciò le mettiamo nella definizione perché altrimenti queste qua potrebbero venire vuote allora possiamo andare a fare ci sono delle funzioni nelle funzioni a scalino minorante? sì ci sono delle funzioni a scalino maggiorante? sì facciamo gli integrati di quelli di sotto e gli integrati di quelli di sotto cosa posso dire? se io prendo x appartenente diciamo chiamiamolo invece di x chiamiamolo lambda appartenente ad a meno e mu appartenente ad a più cosa posso dire? allora prendete fate l'integrale di una funzione a scalino minorante l'integrale di una funzione a scalino maggior rand vi ricordo fi 1 era più piccolo di f che era più piccolo di fi 2 cosa sarà? fi 1 sarà più piccolo di fi 2 quindi lambda sarà più piccolo di mu l'integrale era monotone se una funzione è più piccola l'integrale è più piccolo allora come si chiamano due classi numeriche fatte così? ve lo ricordate? questi erano i primi giorni del corso se io ho due classi numeriche due sotto insieme di r a meno e a più prendo il numero di a meno prendo il numero di a più il numero di a meno è sempre più piccolo che il numero di a più le classi numeriche si dicevano separate cosa ne segue? fatemi cancellare qua pertanto a meno e a più a meno e a più sono classi numeriche 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 separate e l'estremo e non vuote non vuote non vuote e separate e quindi l'estremo superiore di a meno è più piccolo è più piccolo dell'estremo inferiore di a più eh? guardate bene che queste sono due numeriche le ali non possono fare più infinito o meno infinito proprio perché l'estremo inferiore è limitato dal basso e l'estremo superiore è limitato dall'altro questa classe a meno non è una semiretta o perché non è una semiretta? perché ci sta una puntolina a più allora quella è più grande di tutti i valori in a meno quindi quando vado a fare l'estremo superiore c'è un maggiorante il minimo dei maggioranti è sarà l'estremo superiore l'insieme non vuoto quindi il minimo dei maggioranti è distante è finito a meno e non vuoto similmente questo estremo inferiore soltanto che questi erano i numeri più grandi quindi l'estremo inferiore di questi è comunque il più grande dell'estremo superiore di questi adesso che abbiamo fatto? fino a ora non abbiamo fatto niente abbiamo fatto soltanto tante di altri F ma devi cancellare perchè questo non deve rimanere scritto a lettere cubitarie f si dice integrabile secondo secondo riman riman si scrive riemann con due n finali se se su r se solo se per definizione l'estremo superiore di a meno è uguale all'estremo inferiore in a più cioè tutto sta se quei due sono uguali se da sotto l'estremo superiore fa 5 e da sopra l'estremo inferiore fa 7 la funzione non è integrale secondo i quindi perchè non c'è nessuno che dica che quei due devono essere uguali daremo adesso tra poco un esempio in cui non sono uguali non sempre sono uguali quindi non tutte le funzioni saranno integrali secondo io ma se sono uguali allora tu dici da sotto io ho degli integrali che approssimano 5 quanto mi pare da sopra ho degli integrali che approssimano 5 quanto mi pare la f sta in mezzo qual è l'integrale che ci devo dare? 5 non è che ci posso dare 7 perchè mi impazzisco se da sotto viene 5 e da sopra viene 5 mi farei 5 ma se da sotto viene 5 e da sopra viene 7 che ci do? 5, 5 e mezzo 6 6 più dal 5 al 7 il famoso voto dal 6 al 7 quando vediamo il voto dal 6 al 7 che è? 6, 6 e mezzo, 7 significa niente dal 6 al 7 ok? quindi si scriverà si scrive f appartiene a Riemann di r questa r è script è la r di Riemann questa r è la r di numeri reali e si pone e si pone si integra tra meno infinito e più infinito di f di x in dx uguale integra sup di a meno che è uguale all'inf di a più cioè quel valore comune si chiama integrale della funzione è il sottotitore questo è un modo di definire l'integrale ci sono altri modi tramite le somme di Riemann eccetera ma noi questi altri modi li vedremo più specificamente cioè vedremo che coincidono con l'integrale per esempio per le funzioni condivide questo è il modo più pulito è vero che richiede per sistema inferiore e sistema superiore però è quello che illustra meglio il concetto io ho gli integrali da su gli integrali da sopra devono arrivare ad approssimare lo stesso valore tanto sono separati quindi quello da sotto non può superare quello da sopra se però nessuno dice che però debba non essere uguale se da sotto mi viene 3 se da sotto mi viene 9 non c'è tipo per gatti non posso dire che la funzione è integrale come faccio? che valore gli do? 3, 4, 5, 7, 8, 8 e mezzo 10 no però il problema è che non è soltanto dice vabbè sarà un valore da 3 e 9 no no tu mi devi dare un valore se non coincidono non c'è l'integrale chiaro? allora questa definizione è fondamentale per passare l'esame cioè se non sapete questo ma che ciò d'altro canto se ci ho perso un'ora io a darla non è che ti faccio mettere un'ora a fare tutto il discorso ti chiedi che cos'è una funzione a scalino come si fa l'integrale una funzione a scalino qual'è l'integrale una funzione integrabile quando è che è una funzione integrabile secondo rino se vedo che lo sai bene se no scavo chiaro? 8 ora qual'è il programma? il programma è adesso faremo vedere sia degli esempi in cui effettivamente noi possiamo andare a fare questo estremo superiore e vedere che sono uguali poi faremo un esempio in cui non sono uguali e quindi ci sarà una funzione la funzione di Richleth si prende sempre quella come esempio che non è integrabile secondo rino e poi però capiremo bene che questo discorso impostato in questo modo non lo possiamo fare sempre perché è troppo lungo cioè se noi vogliamo calcolare l'integrale di una funzione l'integrale di secondo rino in questo modo affittiamo la notte di Natale vabbè che vicino però ci vuole troppo tempo ok iniziamo con un'osservazione osservazione l'osservazione è questa f appartiene a Riemann di R se e solo se per ogni x maggiore di zero esistono phi 1 appartenenti a s meno e phi 2 appartenenti a s più tali che l'integrale da meno infinito a più infinito di phi 2 di x meno phi 1 di x che è uguale anche l'integrale di più infinito di phi 2 di x meno l'integrale da meno di phi e più infinito di phi 1 di x in d x ovviamente è maggiore o uguale di zero ma deve essere minore di x questa è la condizione è equivalente all'integrabilità secondo y perché se vi ricordate quando noi avevamo due classi numeriche separate separate che significava? significava che i numeri di b stanno a destra e i numeri di a stanno a sinistra e quindi c'era almeno un elemento di separazione se l'elemento di separazione deve essere unico cioè l'estero superiore di sotto deve essere uguale all'estero inferiore di sotto che significa? che vicino a questo elemento qua ci devono stare sia elementi di a che elementi di b quindi in ogni intervallino questo meno ε questo più ε ci devono cadere degli elementi in a meno in a più cioè degli integrali di phi 1 e integrali di phi 2 cioè bisogna che le due classi numeriche oltre che separate se vi ricordate devono essere anche contigue contigue la dimostrazione f appartiene a rima di r se solo se a meno e a più sono contigue che vale se solo se per ogni ε maggiore di zero esiste λ appartenente ad a meno e mu appartenente a più tale che mu meno λ chiaramente è maggiore uguale di zero quando avessimo la dimostra scriverete mu integrale di phi 2 e λ integrale di phi 1 quindi questa è un'osservazione è banale però questa condizione è molto utile perché ci caratterizza le funzioni integrali di secondo rima cioè ogni volta che io riesco a trovare una funzione da sotto e una funzione da sopra a scalino tali che l'integrale della differenza sia più piccolo di ε avendo fissato ε prima può dire che la funzione è integrale di secondo rima questo è garantito non mi dice quanto fa però sarà un integrale che sarà molto vicino sia all'integrale di phi 1 che va a indicare di phi 1 il rima di phi 1 sarà sempre so quindi il rima di phi 2 sarà sempre so a meno di ε chiaro? ok adesso possiamo fare i pausci a meno di ε possiamo fare i pausci a meno di ε